Sala adozioni Perché ci vuole così tanto? Ha scelto o no? Guardate questo angelo! Ho adottato un Pokémon! Zigglypuff! Una grande voce! E ottimi tappi per le orecchie! Incredibile! Il mio Pokémon merita un Grammy! Wow! Grande! Lo voglio anch'io! Ehi, c'è la fila! Andiamo a casa, mio dolce piccolo Pokémon! Che carino! Guarda, non è il miglior Pokémon del mondo! Wow! Ho un Pokémon fantastico! Ho scelto te! Cubone! Wow! Fammi vedere cosa sai fare! Oh, sì! Dov'è? Oh, hai! L'ho preso! Bravo, bravo ragazzone! Ehi! Attenzione! Vi presento il mio Pokémon! Il Pokémon più figo di tutti! Allora, dov'è? Qui! Pikachu! Ciao! Forza! Mostra la tua forza! Fai qualcosa! No! Non ho forza! Che Pokémon spiegato! Un attimo! Davo ricaricarlo! Tieni! Gostoso! Oh, sì! Sono pieno di forza e di energia! Pikachu! Credo di aver esagerato! Questo è inaccettabile! Tu sei accusato di aver inflitto una scossa elettrica a queste vittime innocenti! Andrà in prigione! No! Aspetta! Non portarmela via! Benvenuta in prigione! Fai come se fossi a casa tua! In questa prigione! Ehi! Perché non si chiude? Ecco perché! La mia testa! E c'è gente di tutti i tipi! Alzati! Ed esci! Per favore, agente! Lascia andare Pika! No! 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 Poliziotto arrogante e cattivo! Lascia andare il mio Pokémon! Subito! Calmati! Ai! Centro! Ti sta bene! Oh no! Vendicherò il mio allenatore! Non così in fretta! Terapia elettrosciotti! Ops! Scusa, Greg! Manette anti-elettricità! Perdente! Ah, tu! Brutto mostro! Spara quanto vuoi! Non funzionerà! Queste manette funzionano davvero! Ed ecco il tuo pranzo! Farina d'avena sana! Che schifo! È veleno! Buon appetito! Sto per vomitare! Ora! Un secondo! Ecco! Ho trovato un dolcetto! Lo vuoi? Questo ti darà forza! Miam! 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 Non pensarci nemmeno! Niente snack! Non è permesso! Odio questa regola! Tu! Confessa quello che nascondi! Ti tirerò fuori tutta la verità! Ne hai altri? No! Ora basta! Vattene! Non mi sono schiantato! Ai! Ora va meglio! Posso tornare a lavorare! Greg! Non preoccuparti, Pika! Tornerò! Tieni duro e aspetta! Pika? Ciao! C'è qualcuno lì? Sì! Ciao! Ciao! Ehi! Mi serve il tuo aiuto! Puoi distrarre la guardia? Per favore! Certo! Fantastico! Ora che succede? Eccellente! Che c'è? Sono depressa! Sei molto rumorosa! Ci siamo! Ho le chiavi! Ben fatto, Pikachu! Tutto qui? Ok! Hai finito la depressione? Cos'è stato? Pokémon cattivo! Pika? Beh, ha funzionato? Oh sì! Siamo quasi libere! Woohoo! Ora devo solo occuparmi della guardia! Caglia! No! Lo legherò alla sedia! Proprio così! Ora ti faccio uscire, Pika! Forza, sbrigati! Mentre lei non guarda! Ma che... Cosa? Sono bloccato! Ups! Dai! Dai! Cosa? Ehi, ape! Falla uscire, il fiore è morto! No, non il fiore! Che scelta difficile! Addio, foglie! Snip, snip! E dai, apri! Ma poi il fiore morirà! Non posso farlo! Mi dispiace, Pikachu! No, aspetta! Ecco le chiavi! Hai fatto la scelta giusta! Ora torna in cella! Mostro! Oh no, ragazzi! Per favore scrivete nei commenti Pikachu è innocente! Smettete di commentare! Per favore! Zetta! Che cos'è? Un ammiratore segreto? Lo sapevo! Devo mettere il bouquet in un vaso! No, i fiori sono troppo lunghi! Ma posso sempre potarli! Proprio così! Buttiamo via l'eccesso! Oh, che bel bouquet! Meraviglioso! Wow! Fiori! Venite qui, miei cari! Farete del miele delizioso! Miam, 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 miam! Sì! Ora sono piena di forza ed energia per combattere! Non mi terrete più in questa gabbia! Libertà per le apri! Oh oh! È finita! Di addio alla tua vita! No! Non farlo! Per favore! No! Dov'è? Non questa! Ecco! Proprio quello che mi serve! Non questa! Sogni d'oro, Ape! Oh 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 oh! Ehi, agente! Salve! Ti richiamo! E tu chi sei? Nuovo prigioniero! Benvenuto nella mia prigione! Ti piacerà! Soffitti alti! Questo è Pikachu! Pieno di energia! Ma andiamo avanti! Ed ecco Beedrill! Che dolce! Ehi! Dov'è quello nuovo? Cosa? Ecco! Ti ho portato delle caramelle! Ops! Tu! Seguimi! Stai fermo! E non muoverti! Cosa? La batteria è morta! Pessimo tempismo! Ecco! Ci serve la luce! Sorridi! È così luminoso e caldo! Le mie caramelle! Cos'è? Ups! Hai portato delle caramelle nella mia prigione? Come ti permetti! Esci! Boom! Centro! È ora di andare a nanna! Come faccio a scappare da qui? Dormono tutti? Sì! Ehi, Beedrill! Che c'è? Dai a letto! Subito! Sì, signore! Non farebbe male un pisolino nemmeno a me! Ops! La grande capo è caduto! Mentre la guardia dorme, potrei uscire! Oh sì! Le bocchette d'aria! Ottima idea! Non posso perdere l'occasione! Cosa? Che c'è qui? Beedrill! Fantastico! È qui! Ehi! Ehi, amica! Ciao! Vieni su! Ho pensato a tutto! Ok! Ma sta dormendo? Va bene! Sto arrivando! Ecco, prendi! Aiutami! Non riesco a raggiungerti! Oh! Salirò qui! Ci sono quasi? Perché è così rigido? Merito di dormire su un letto vero! Aspetta un attimo! Dov'è Beedrill? Perché questa cella è vuota? Aha! Capisco! Bene! Eccoci qui, insetto! È ora di tornare a casa! Forza! Forza, Pika! Torna a casa, Ape! Presa! E non osare scappare di nuovo! Sei il peggiore! Io scelgo questo Pokémon! Attimo! E io scelgo questo! Oh no! Non è giusto! Hai vinto di nuovo! Ah! Io vinco sempre! Grazie! Basta! Non giocherò mai più con te! Ciao, perdente! È tutto mio! Vera pelle! Mi piacciono! Ora queste sono le mie nuove scarpe! Cos'è questa puzza? Che schifo! Hashtag vincente! E tu chi sei? Vuoi giocare? Dai! Siediti! Ti farò a pezzi! Questo lo vedremo! Userò questo Pokémon! Sì! Oh! Che sorpresa! Guarda! Che partita tesa! Forza! Oh no! Hai battuto il mio Pokémon! Come osi! Ecco a te! Ti ho portato delle chicche! Sbrigati! Ok! Grazie! Ehi! Sì! Du! Ti sfido a duello! Pedril! Scelgo te! Ok! Posso scegliere Pikachu? Va bene! Grazie! Pikachu! Scelgo te! Togliti le manette! Beh! Dai! Fai qualcosa! No! Iniziamo il duello! È l'ora della battaglia! Spare elettricità! Ma che ti prende? Pikachu! Per favore! Attaccali! Pedril! Vai! Vai! Ai! La mia testa! Greg! Sei tu! È così! Non permetterò che Greg si faccia male! Fica! Pedril! Oh sì! Bel colpo! Abbiamo vinto! Ehi B! Svegliati! Attaccali! Forza! Non riesco! Devole! Prendi un po' di steroidi al miele! Grazie! Secondo round! Accetta il duello! Pika! Sì! Ha funzionato! Sei libera Pika! Corriamo! Ma dov'è? L'autobus è di nuovo in ritardo? Forza! Sbrigati! Non possiamo aspettare a lungo! Wow! È davvero carino! Proprio quello che ci vuole! I fiori sono fantastici! E' un tesoretto! Cos'è? Una tonnellata di materiale da costruzione! È qui che costruiremo la casa dei tuoi sogni! Wow! Sì! È un uccello! Un'ape gigante! Grazie! Lo apprezzo molto! È il miglior miele solo per me! Ma che significa? Prendi tutti i fiori! Non osare raccogliere i fiori! Fatti avanti! È un errore! Tu sei un errore! Oh oh! Non farlo! Ti puncerò! Ho l'allergia! Chi urla squarciagola? Bedrill! Perché fanno male ai miei fiori! Vai a sistemare Bedrill? Neanche persone! Sono un umano libero! Dov'è il miele? Proprio qui! Era qui! La colpa è loro! A casa! Subito! No! Bedrill! Brutta bestia! Entra nella Pokéball! La prossima volta ci penserai due volte prima di metterti contro di me! Il miele è davvero buono! Via libera! Libera! Bene! Procediamo con la costruzione! Solo un po'! Abbiamo un telaio da saldare! Posso farlo io! Non muoverti? Ma ce la farai! Un gioco da ragazzi! Oh! Hai una maschera anche per me! Non guardare! Non vedo nulla! Pica! Mostro! Prende questo! Oh, Ash! Scusa! Dove sono? Che anno è? Ops! Come ti sembra? Ti sei proprio spaccata la schiena! Facciamo in prima! Certo! Così! Le graffette per fissarli! Qui! Per ora tutto bene! Manca un ultimo pezzo! Eccolo! Bisogna fissarlo dall'interno! Vai! Fatto! Ape! Al lavoro! Questo è oltreggioso! Prendi del miele subito! No, no e no! Ah, davvero? In questo caso, ti dispiace se taglio questi fiori! Farò qualsiasi cosa! Ma non fare del male ai fiorellini! Questo è lo spirito! Vuoi che balli per te o altro? Questa è schiavitù! Ecco il miele! Eh? È solo un fondo! Ti è passata la paura? Mi farai andare in rovina! Che diavolo è questa? Casa affascinante! Mai vista prima! Ahi! Mi hai punto! Scusa! Non volevo! Potrebbe essere un buon posto per un negozio! Cosa? Un negozio di miele artigianale! Sarò ricchissimo! Al lavoro! Abbiamo la merce da preparare! È dura! Ciao, mondo! È divertente! Bello! Oh! Idea! Sei qui dentro! La mia coperta! Coprirà tutta la casa! Ottimo! Ti aiuto io! Andiamo! Dieci su dieci! Finestre! Via! Sbrighiamoci! Vibrazioni da Formula 1! Fatto! Pikachu! Ma dove sei? Strano! Non è qui! È nemmeno qui! Ma dove è andata? Ragazzi, scrivete qui sotto dove è andato Pikachu! Se potessi vedere la tua faccia! Ica! Vieni qui! Ehi, stavo scherzando! No, vieni qui! Percepisco i soldi! Gli affari andranno a gonfie vele! Com'è successo? Che se ne frega! È più bello! Il negozio di miele di Mr. Binance è aperto! Solo tre dollari! Manuka, acacia, Croazia... Quello che vuoi! Le voglio tutti! Sì, è praticamente un furto a questo prezzo! Per me no! Non ho soldi! Gustoso! Niente regustazioni! Niente soldi! Niente miele! Voglio il miele! Tu! Tu! Fuori! Ma questo è il nostro posto! No! Questo è il mio negozio! Brutto maleducato! Ora ti prendo a calci nel sedere! Ti darò un bel cubi! È una bella faida! Ecco fatto, prendi! Ehi, ridammelo! Cosa? Ridartelo? Riprenditelo! Non mangiarlo! Ai! Oh, sono stato io! Il mio naso! Oh, è buono! Aspettate! Mi rivedrete! Sì! Vai pure! La vendetta arriverà presto! Sì! E prendo anche questo! Ok! Oh, sai che roba! Andiamo avanti? Occhi! Io faccio le pupille! Wow! Un sorriso da un milione di dollari! Favolosi! Squadra! La casa ha fame! In questo caso, gli daremo da mangiare! Cosa? Mi aiuti? Tiro forte! Oh, una carota gigante! Ha funzionato! Andiamo! Uno, due, tre! Che luce sia! Wow! Battì cinque! Sono insuffiato! Come osi disturbare Zaus? Ragazzi! Ecco in arrivo il fulmine! Ehi! Potrebbe tornare utile! Wow! Ma certo! È bello! Sarà una coda perfetta! Grazie, Zaus! Come possiamo ringraziarti? Premendo il pulsante mi piace! Ragazzi, avete sentito? Veloci! Premete sul like e iscrivetevi! Cosa? Ragazzi, siete finiti! Hai visto lo spaventapasseri? È bufio! Lo è davvero! Non per molto! Bedrill, scelgo te! Chi vuole farsi punzecchiare? Oh oh! Proviamo! Prendili! Seguiamo la procedura! Corri! Cosa? Pikachu! Allora che si diverte ora? Da paura! Vi lascio fare! Non c'è scampo! Pikachu! Ti piace il miele? Prego! È una situazione appiccicosa! Letteralmente! Attacca! Pikachu! Datti una regolata! Pikachu! Un po' di fisica! Di nuovo! Bravissima! Mi dispiace! Attacca Bedrill! Sì, signore! Oh no! Oh cavolo! Pika! Non mi sento molto bene! Oh no! Ash! Perché? Questa cosa mi pusce! Cioè! Pungilo! Arriva il ronzio! No no no! Sì! Forza! Forza! Questa è per Ash! Alzati subito! Pazzesco! Ha funzionato! Ora mi occuperò di te! Stai lontano! Oh, sparo! Mancato! Mancato! Stupida pistola! Alzati subito! Oh, i fiori sono finiti! Brutto mostro! Non Bedrill! Oh! Io? Ai! Stai bene? Vedo! È tua! Grazie! Mi hai salvato! L'ho fatto! Ma non Ash però! Oh! Mi è venuta un'idea! Il miele curativo funziona a meraviglia! Grazie! Ecco a te Ash! Sono vivo! Mi avete fatto pace! Dovremmo essere tutti amici! Bene! Ho chiuso con il miele! Ho scoperto la mia vocazione! Beccati i Pokémonsters! Cosa? Pichu! Aiuto! Oh, cavolo! Forza! Andiamo, preda! Scorbanni! Dove sei? Va per te! Cos'è successo? Hai visto Scorbanni? Non capisco! Devo andare a salvarli! Vengo con te! Questa è una prigione o cosa? Benvenuto nel mio regno, coniglietto! Super forte! Super pica! Questa è la sezione dei bambini! Venite, bambini! Wow! Abbiamo una stanza tutta per noi! La tua cella è da quella parte, coniglietto! Cattivone! Andiamo, Pichu! Mi sto andagliando! Ehi, è io! Bene! Posso uscire anch'io! Non avrei dovuto fare il piano di carote! Oh, la mia coda non passa! Sono bloccato! Cos'è questo rumore? Dov'è il mio Scorbanni? Chi mangerà ora queste carote? Mi manchi Scorbanni! Ho un piano di salvataggio per i Pokémon! Ecco come evadere dalla prigione! Prima noi andiamo qui e poi loro andranno qui! Sono confuso! Ah, scemotto! Nessuno si muova! È un'operazione di salvataggio! Cosa vuoi? Tu, ragazzaccio, le chiavi subito! Apro io! Fatti coraggio! Vuoi prendere i Pokémon? Tu stai giù! Accidenti! No! Stai giù e fai silenzio! Ti darò un calcio nel... Ho capito! Non farlo! Cosa suggerisci? Ho un'idea migliore! Impronte di zampe! Cosa? Perché? Non opporti alla giustizia! Dammi la tua zampa! Ecco! Mettila sul foglio! Non funzionerà! Sei sicuro? Ostione di primo grado! Ma cosa hai fatto? Ops! Stai dritto! E fermo! No, 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 no! Sei fuori fuoco! Fermati! Ti farò stare fermo! Non scapperai adesso! Povero coniglietto! Non sei più così veloce, vero? Fantastico! Sorridi! Alza il mento! Bella foto! Guarda qui! Peccato che sia per me! Le carote le prendo da solo! Una buca profonda! Semi di carota fresca! Acqua! E un po' di tempo! Ecco il mio raccolto! Carote fresche di giardino! Fermati! Le carote non sono per i prigionieri! Che coraggio! La sua ingordigia è sfolgorante! Perché fa così caldo? Che succede lì? Mi sto solo rilassando! Bene! Facciamo un po' di caldo! Il caldo è insopportabile! Un ventilatore! Sei una mamma dal cielo! Finalmente un vento rinfrescante! Qualcuna ha ordinato una pizza? Pizza! Cosa? Pizza! Ha funzionato! Ehi! Sky! Ti sei attormentato anche tu! Perché? Ho un gran sonno! Sky! Svegliati! Oh! Le chiavi! Ok! Ce la farò da sola! Quale chiave andrà bene? Questa! Oh no! Anche Scorbanni sta dormendo! Svegliati! Coniglietto! Dobbiamo andare! Le catene sono pesanti! Non riesco a sollevarle! Forza Scorbanni! Svegliati! Un aiuto! Sky! Svegliati! Forza! Non è quello che volevo svegliare! Tu sonnecchia ancora un po'? Sono esausta! Devo strisciare fuori di qui il prima possibile! Scorbanni! Chi ha aperto la tua cella? La cosa mi sembra strana! Ecco il tuo pranzo! Che schifo! No! Vuoi una carota croccante? Scordati! Per favore! Oh! Povero coniglietto! Ecco una carota! Ma non è per te! Cattivone! Abbraccia! Abbraccia! Acqua! Acqua! Che sollievo! Che sollievo! Ehi, agente! Guarda qui! Ora Bob farà tutto quello che gli dico! Coo! 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 Fantastico! Posso controllarlo? Coo! Sì! Fai pure! Stiamo per divertirci! Puoi fare l'effetto ripetizione? Certo! Infinito! Guarda che succede ora! Geniole! Uno schiaffo infinito! Ecco, Scorbanni! Usciamo da qui! Che mi succede? Fermati, mano! Chi c'è lì? Datti una mossa, Sky! Peccata, farfalla gigante! Oh oh! Un altro Pokémon nella mia collezione! Benvenuto in prigione, coinquilino! Questa rete d'oro è il mio sogno! Mi sta chiamando! Ma costa duemila dollari! Tutto quello che ho è un solo dollaro! Me ne servono di più! Ehi tu! Barbie, siediti! Cosa ti porta qui? Sto cercando un nuovo Pokémon! I miei Pokémon non sono in vendita! Non posso farci nulla! I soldi non sono un problema! 1999 dollari! Più il mio dollaro! È un affare! Vieni! Faccio vedere i miei migliori Pokémon della città! Qui abbiamo Scorbanni! Un conghetto carino e soffice! Ehi tu! Adorabile! Bye bye! Ed ecco l'affascinante Butterfree! Graziosa e simpatica creatura alata! Ha l'allergia al polline! Ehi ragazzi! Sono Barbie! Potreste aiutarmi a scegliere un Pokémon? Scrivete il vostro nome e il Pokémon che vorreste! Non vedo l'ora di sentirvi! Ed ecco! È bellissimo! Cosa? Ma quello è? Io sono Barbie! Siamo fatti per stare insieme! Vivremo insieme per sempre felici e contenti! Amore mio! La sua testa è piena di plastica! Scelga lui! Come vuoi! Grazie, Phil! Felice di essere stato d'aiuto! Tieni! Manovra di distrazione! Cosa c'è laggiù? Mi servono rinforzi! Agente Bob! Non sono sicuro di cosa sia, ma credo che ci sia una situazione di Pokémon! Questo è un lavoro adatto ai professionisti! Come ti sembra la situazione? Vieni subito! È urgente! Ciao, amico! Qual è il problema? Laggiù, al bancone! Penso io! Nessuno? Fantastico! Non mi sfoggerà il male educato Pokémon! Fatti vedere! Santo cielo! Ho un'area? E per te... Non sono un pesce! Potere agli artigli! Avvitto! Non mi arrendo, Pokémon! Non mi arrendo! Il mio salvatore! Seguiamo queste sbarre! Non è utile! Vediamo questo! In guardia, gattino! Fuoco! I gatti sono tutti uguali! Peccato! Artiglio scintillante! Forza, Scorbani! Di più, di più! Ho qualcosa per te! Una scatola! Miau! Un altro Pokémon preso! Questa volta funzionerà! Scommetto che non funzionerà! Sfisto! Non funziona! Oh, giusto! Colpa mia! Dammi un momento! Questo Pokémon è mio! Hai delle prove? Ho la Pokéball! Ora è mia! È il mio pugno! Posso tornare più tardi? Cosa? Che c'è qui? Ti tengo d'occhio! Che diavolo sei? Polizia di routine! Vai a pulire da un'altra parte! Assolutamente! E pulirò le celle! Quale chiave andrà bene? Non questa! Forza! Raccogli la spazzatura! Certo! Fatto! Qui c'è polvere! Arrivo! Pulisci il misuratore di altezza! Certo! Subito! Scorballi! Ehi! Ehi! C'è una pozzanghera qui! Chi sarà stata? Nessun problema! Ci penso io! Ben fatto! Ottimo lavoro! L'ufficio non si pulisce da solo! Chi ha rubato la mia uniforme? Tu! Perché è qui? Ehi! Impostore! Fermati! Stai parlando con me? Attento a te! Ehi! Che coraggio! Queste sono le mie chiavi! Vai a pulire lì! Buon compleanno a me! Cantate Pokémon tutti insieme! Buon compleanno a me! Oh cavolo! Un altro compleanno! E ancora nessun regalo! Anche mia madre non si fa vedere! Tesoro! Buon compleanno! Mamma! Sei venuta! Ho un regalo per te! Una Pokémon per il mio bambino! Una Pokémon! Grazie mamma! Ehi! È vuota! Dov'è il Pokémon? Scemotto! Hai un sacco di Pokémon qui! Esatto mamma! Dovremmo scegliere un Pokémon insieme? Scusa! Devo andare! Ti voglio bene! Ciao mamma! Chi vuole essere mio? Scorbunny! No! Forza entra! Ti piacerebbe? Ok! E tu Butterfree? Che ne dici di diventare il mio Pokémon? Va bene! Ora possiedo un Pokémon! Sono un vero allenatore di Pokémon! Bob è un campione di allenamento! Ehi! Scorbunny appartieni a me! Lascialo libero! Oh! Davvero? Sì! Non sono un Pokémon senza casa! Sono di proprietà di Sky! Ok! Sei libero di andare! Esci! Ops! Coniglietto! Togli le catene! Oh! Giusto! Me ne stavo dimenticando! Un momento! Ecco! Goditi la libertà, coniglietto! Scorbunny! Sei pronto? Andiamo a casa! E non farlo mai più! Le mie vacanze sono arrivate! Ehi! Agente Diana! La prigione è tutta tua! Le Hawaii mi stanno aspettando! Allora, Pokémon! Beh, vediamo! Pikachu! Pikachu! Sono qui per prenderti! Sei tornato! Vuoi combattere? I miei Pokémon sono più forti dei tuoi! Chiamo Geodude! Abbattilo, Pikachu! Sei in arresto! Cosa? Ho anche un mandato d'arresto che ho stampato cinque minuti fa! Ma che succede? Ecco la prova! Pikachu ruba le caramelle! Pikachu? Non sono io! Sono stato incastrato! Pensa a quello che hai fatto in prigione! Ciao, Pikachu! Vediamo cosa nascondi! Restituisci tutti gli snack! Prendi il tuo numero! Stai fermo! Devo fare una foto! Cosa? Ehi! Il flash è rotto! Oh, i miei occhi! Ora basta! Niente più lampi! Non muoverti! Cosa? Peccatriste! Ecco! Sì! Come hai fatto a prendere quelle patatine? Le ho portate via tutte! Dammi tutto! Ora non puoi più scappare! So hai fatto a prendere! Hoை! Cosa finisi! Vale! 32 Chi